Incidente mortale lungo la statale 16 a Marotta nell'incrocio con la Pergolese poco dopo le 11 di questa mattina. A perdere la vita un uomo di 83 anni, residente a Marotta proveniente da Senigallia, che si è schiantato con la sua autovettura svoltando a sinistra in direzione Mondolfo all'angolo della careggiata contro un muretto in cemento armato e abbattendo anche i pali di sostegno della cartellonistica. Nessun altro veicolo è stato fortunatamente coinvolto nella corsa impazzita dell'auto. La polizia locale sta accertando in queste ore le cause che hanno portato l'uomo ad effettuare una traiettoria così ampia e apparentemente fuori controllo. Sarà l'autopsia disposta dalla procura a stabilire eventualmente se fosse stato un malore improvviso, a far perdere conoscenza all'83enne proprio mentre stava percorrendo la curva, che aveva comunque rinnovato di recente la sua patente di guida. Alcuni testimoni hanno sentito una brusca accelerazione e poi lo schianto, come se l'acceleratore dell'autovettura fosse stato in qualche modo bloccato. Sul posto, oltre ad una pattuglia dei carabinieri di Marotta, anche una della polizia locale che ha eseguito i rilievi di regge ed una squadra dei vigili del fuoco di Fano che ha messo in sicurezza il veicolo ed i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'83enne che lascia la moglie e due figli.